bene eccoci di nuovo io avevo promesso un altro piatto sempre con il salmone i fichi stampi e violi siciliani abbiamo la tartar che abbiamo preparato prima ed è già pronta e ok poi qui ci sono le viole e gli stampi crudi abbattuti mi raccomando sempre il pesce se è crudo sempre abbattuto è importante prendiamo l'eciliente una tazza va bene e prepariamo il nostro condimento quindi mettiamo olio extravergine di oliva in questo caso grezzo va benissimo il nostro limone sempre con la scorza e ripide raggiungiamo la nostra scorza e metteremo anche il succo ora quando fare queste preparazioni potete farle anche ora prima in questo modo pesce marinerà a che sarà più sapore metteremo anche il succo del nostro limone metteremo un pochino di pepe e mettiamo un po di sali direttamente nella nostra il nostro condimento la nostra marinatura che andrebbe mettere un po di erbe aromatiche e metteremo un pochino di pezzemolo pezzemolo col pesce ma sempre bene la menta è un po di basilico facciamo un bello profumato ok vediamo un pochino ci siamo ciao albert ecco qua ecco qua manca solo un po di pepe eccolo qui vediamo quella nostra marinatura è pronta come vedete che è più sicilissima abbiamo fatto presto presto e qui abbiamo il nostro pesce che abbiamo già pulito abbiamo visto già altre volte come si fa togliete il carapace togliete l'intestino alle viole e spacchiamo i nostri scampetti eccoli qui e li andiamo a condire facciamo marinare e li lasciate qua pronti abbiamo qua il nostro bel piatto la nostra bella fogliolina di figo prendiamo la tartar che abbiamo preparato prima ci mettiamo sul fondo un pochino di del nostro cavolo sempre abbiamo ordinato prima d'estate questi piatti stanno benissimo sono freschi saporiti abbiamo visto altre volte abbiamo fatto anche con il melone con la zucchina andiamo a posizionare la nostra tartar di salmone con i figli l'ho preparato prima eccola qua pronta poi ci mettiamo sopra uno scampo con l'agliola e l'altra le mettiamo così a dare un po' ecco fatto ecco fatto eccoci qua eccoci qua ok mettiamo il mirtello no un po' di decorazione voilà e siamo pronti eccolo qua ciao capricci di venere ecco fatto anche questo è un piatto fresco festivo saltare soprattutto e appetitoso poi la il vostro condimento la vostra marinatura eccola qua andate a mettare a nappare il vostro pesce ecco fatto bene ed anche questo è pronto grazie dell'attenzione un bacio e un abbraccio a tutti e ci vediamo tra poco faremo anche un dessert buonasera a tutti grazie 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 grazie